Mi sento a spiegare un'altra cosa, male che vado, faccio una telefonata, faccio una passione, non mi senti, non mi chiedo da sopra, da sopra, da sopra, e poi voglio aspettare. E poi voglio aspettare, e poi prendo un metro su un po' Basta, senti la carta a Giove, tu stai appena il telefono, non stai appena il telefono, Sono fatto il telefono, non stai appena piccato, non c'è nulla di mangiare, non c'è nulla di mangiare da un altro collega, che ho fatto la macchina molto in centro? Chi va la macchina, picchiere l'idea, e che su spessione? Quindi c'era il picchiere, con un gruppo di nese, ed è tozzo di casa niente, tutte queste mangiare nella provincia, tutte le persone tue scopiare. Ma chi ti fa? Come on, mamma mia, non si stanno spesso. Tutti i mani hanno fatto il peccato. E' una volta che l'ha bevito ma... E' un scapposso molta macchina da provincia. E' una volta che l'ho presa con il cavolo, Mario. Giuseppe, com'è sta cosa? Non funziona sta posata. Quando ha preso il progetto? Beh, niente, non posso sapere. Di proprio i programmi, di tutti i giorni. Trotti, 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 trotti. Non funziona, magari. Ma non siete niente. Quanto è? Quanto è? Quanto è? 2.080 euro 8 euro Ma quando hai preso? A me mi interessa Donetto e poi ho preso 300 euro in più perché? Perché si hanno portato la Liva da 0 a 108 non mi hanno mai fatto la differenza come diceva la legge come vanno a dare la differenza tra chi e chi mi ha dovuto assemire Se sono curati Mario stai attendo a quello che dici che ti pubblica praticamente su Twitter Lo denunzio E che signor sembra la bagna Ma quando ne va? Lo denunzio Lo metto su Storaci Mario Storaci Non c'è più Non c'è più Aspetta Rossitto cerca di non fare i primi piano e cerca di saltare questa zona Saltiamo tutte le zone basta l'occhuria Grazie a tutti.